Dissolvenza, dissolvenza. Un gruppo di ragazzi e ragazze accelera il passo per non fare tardi, sono tutti ben vestiti, allegri e sorridenti e tra loro ci sono anch'io, come ero più di 30 anni fa. Dissolvenza. Ciao a tutti e benvenuti nell'Angolo di Viola, uno spazio speciale che negli anni viene aperto per parlare di novità artistiche, discografiche e in questo caso di novità editoriali. Infatti ho appena letto un piccolissimo estratto del libro Il Campanile e altre storie scritto da Fabio Rossi. Fabio Rossi ha già parlato molto in libri che hanno fatto rumore, ha parlato di musica, la musica cosiddetta colta, sicuramente la musica bella. In questo caso invece Fabio parla proprio di sé, in un modo molto particolare, in un modo che ormai quasi non conosciamo più. Autentico, coraggioso, semplice, diretto. Parla di sé, di una sua storia che molto può far riflettere e molto può insegnare. Io l'ho letto tutto di un fiato questo libro e credo sia meraviglioso. Ve lo consiglio, compratelo, leggetelo, recensitelo nella vostra testa, nei vostri diari o magari nei social network. fermatevi qui sotto il campanile, giallo ocra. Ne vale davvero la pena. Vi abbraccio e a risentirci presto. Vi ho l'annocenzi.